Sarà spazzato via come tutti gli altri. Contro di lui schiereremo il forte... ...la stene! E' anziano nella mente, ma giovane nel corpo. Rapido è l'occhio e il braccio non inducia a centrare con la lancia il nemico. Ora ti dirò del settimo, schierato alla settima porta. Dirò dell'uomo che è tuo fratello, il forte Polinice. Grida che vuole scendere in campo contro di te e dopo averti ucciso morire al tuo fianco. Oppure, se vivrai, cacciarti da questa terra ripagando con la stessa pena tu che l'hai disonorato con l'esilio. In braccia uno scudo rotondo vi si vede un guerriero armato, sbalzato nell'oro. Una donna, dal saggio aspetto, lo precede e lo guida. Dice di essere la giustizia. La scritta dichiara così. Riporterò quest'uomo in patria. Riavrà la città dei suoi padri. Rivedrà le sue case. Con voce veritiera ti ho riferito tutto quello che ho visto. Ora pensa tu a guidare la nave della città. Grazie. 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 Grazie.